Torniamo a parlare di eutonesia e l'occasione ce la dà da Marco Gentile. Insomma si cerca da Trieste, che è una città sensibile, di far ricordare ai parlamentari testini che poi dopo lanciano il messaggio a Roma di discutere le proposte di legge e di iniziativa popolare. In questo caso dell'eutonesia però mi pare un po' in generale che vengano sempre dimenticate. Certo, questo è il secondo atto di una battaglia politica per la legalizzazione dell'eutanasia. Dopo che l'anno scorso abbiamo raccolto le firme e le abbiamo presentate in Parlamento, oggi sollecitiamo i parlamentari non ad accogliere le nostre proposte, ma che si apra un dibattito e una votazione, che potrà essere favorevole o contraria, sulla questione dell'eutanasia legale. Cioè noi pensiamo che quando i cittadini utilizzano uno strumento costituzionale come quello della proposta di legge e di iniziativa popolare, poi il Parlamento abbia il dovere di rispondere in maniera affermativa o negativa, come d'altronde ha detto e ha sollecitato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Da quattro parlamentari su sette hanno risposto, due sono venute anche alla conferenza stampa, poi c'è stato Massimiliano Federica che ha preso, nonostante la comunità d'Italia, l'impegno proprio di vedere in generale le regole, grande assente, lo diciamo perché interviene ogni giorno su mille temi, non su questo la Santa Salmona di Forza Italia. E anche Aris Prodani dei 5 Stelle. Ecco io vorrei capire questo, a prescindere dalla mail di risposta, a prescindere da chi è presente qui oggi, poi dopo infine si muoverà qualcosa, oppure infine sono spot, perché infine tante volte noi abbiamo questi parlamentari che dicono, dicono, però poi siamo ancora qua a parlare. Ma noi facciamo il possibile, più che sollecitare non possiamo fare. È chiaro che in precedenza, grazie ai casi Welby, Coscioni, che sono arrivati, e in Glaro, che sono arrivati alla ribalta nazionale, molto è stato fatto su questo tema e c'è una presa di coscienza della maggioranza, penso, dei cittadini. Quindi è chiaro che queste cose vanno avanti se ci sono dei casi molto eclatanti, come per esempio il caso in Glaro, ma ovviamente dopo se c'è un'iniziativa politica da parte dei cittadini o di alcune forze politiche. Noi abbiamo fatto il massimo per il momento, d'altronde non abbiamo parlamentari, non abbiamo consiglieri regionali, non abbiamo consiglieri comunali, però comunque su alcuni temi siamo presenti e abbiamo un notevole consenso da parte dei cittadini. Ecco, caso in Glaro, lei è iniziato nel caso in Glaro, però qualche settimana fa all'ospedale di Cattinara, una persona che era in condizioni dove non sape esattamente se avrebbe avuto di pena, se o meno era messa molto male, però comunque la speranza è l'ultima a morire, dodici ore dopo la spina è stata staccata. Quindi infine anche lì ci sono due pesi e due misure a seconda di quello che è, perché voglio dire se per in Glaro c'è una situazione qui invece è stata l'esatto contrario. Tu hai toccato proprio il tema centrale di questa battaglia politica, l'eutanasia c'è, si pratica, ma in maniera clandestina, e la si pratica senza regole e a secondo dei medici e degli ospedali noi abbiamo diversi trattamenti. Quello che noi vogliamo è legalizzare l'eutanasia attraverso delle precise regole che devono essere rispettate, perché appunto non si può far finta di niente, l'eutanasia c'è, viene praticata, ma viene praticata in maniera clandestina e senza regole.